Credo che il coraggio sia una caratteristica fondamentale di un imprenditore perché comunque il fatto di avventurarsi in un mondo molto competitivo come quello attuale o come anche quello del passato dove ovviamente tu fai un investimento sulla base anche di tue idee, di tue visioni, di tue valutazioni che poi devono essere evidentemente confermate dal mercato, dall'attività, quindi per definizione un imprenditore deve avere coraggio ed è fondamentale avere coraggio, usare, chiaramente fare i calcoli, fare i conti, non buttarsi senza rete, però certamente il coraggio è fondamentale.